Penso proprio che sì, penso che si debba e che si possa trovare un giusto mezzo tra un'evidente situazione di emergenza nella quale i sindacati hanno ragione a dirci che in questa emergenza non possiamo certo pensare di lasciare in agosto molte persone per strada e d'altra parte è evidente che non si può proseguire questo provvedimento all'infinito perché poi dovrà riprendere ad un certo punto il ciclo economico normale delle imprese, però non è ancora un momento quindi bisogna trovare un giusto mezzo e io penso che si troverà una mediazione nell'opportunità. Parlatele con chi ne parla, noi abbiamo quello che ha detto ieri il segretario nazionale del partito Nicola Zingaretti che il PD in questo momento è interessante risolvere i problemi, guardi noi abbiamo una data impressa con il fuoco nella pietra che è il 15 ottobre quando l'Italia dovrà consegnare il piano per il recovery fund, il piano di progetti, di riforme da far finanziare con il recovery fund, è un'occasione storica, straordinaria per dimostrare all'Europa che l'Italia ha progetti, idee, capacità per cambiare il paese, non solo per avere i soldi, per cambiarlo per attuare dei progetti che modifichino l'assetto del paese, questa è la cosa più importante poi non so parlarvi di rimpasto.